risalita, seconda seconda risalita questa prossima seggiovia alt non so come si chiama, è una gara venta ragazzi so che è una gara venta gara venta cuppa al bar, quattro airs e pan 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 e in berg ci siamo olè eccoci qua ragazzi guanti un attimo via da parte qua dobbiamo salire su in cima adesso vediamo un attimo il telefono cosa mi dice questa dov'è la funivia ah si la c'è una seggiovia che va su guardala la seggiovia poi dietro ci sarà la funivia altro che allora questa qua è la adesso ve lo dico subito ragazzi par pan e in berg una seggiovia quadriposto costruita nel 2004 velocità 5 metri al secondo per un tempo di percorrenza di 5 minuti e 30 costruita dalla ditta doppelmaier sostituisce una ski lift t bar ancora sostituisce un ancora vabbè ragazzi questo è quanto questo è quanto per questa seggiovia tutte le informazioni ve le ho date il sole dopo arriva la rosa c'è la rosa c'è eccoci qua ragazzi qua vedete un cannone rosso dalla ventus dalla ventus dalla ventus qui qua c'è la pista mi sto riparando con il passamontagna passamontagna e basta passamontagna e lo scaldacollo che raggiunge gli occhiali eccoci qua ragazzi seggiovia seggiovia quindi dalla doppelmaier parpan cioè siamo arrivati fino a parpan ma ti rendi conto fino a parpan siamo arrivati ragazzi e lassù c'è la prossima seggiovia stavo per fare sale stavo per fare sale ripartita sembra un po' una seggiovia come quella di Cari questa raga veloce bella veloce ecco la prossima seggiovia un po' di venticello vedi che c'è cannoni che vanno un po' si cannoni che vanno cannoni che vanno un po' si eh ci ha palanini eh ci ha palanini si si ci ha palanini questo qua non è ancora il punto più alto il punto più alto è la la pista è si ma te l'ho detto guarda che su in cima mi sono andati io la mamma su in cima là va giù così infieme così è proprio un muro è un muro eh si si è l'altro canalone lì sopra ma io non lo faccio adesso dobbiamo prendere ragazzi quella seconda seggiovia un altro cannone qua che stanno provando ad accendere qui sotto lo sta sistemando riparazione questa si è rossa questa è la pista rossa quale è la seggiovia quella quella questa qua vicino qua vicino è è vero eh ma è troppo lunga farne una sola era troppo difficile farne una sola adesso adesso abbiamo questa prossima seggiovia ragazzi questa qua è la seconda seconda seggiovia la sera e ci siamo ragazzi adesso si sale sulla prossima seggiovia e ci siamo e ci siamo e ci siamo e ci siamo